Buonasera a tutti, Tata Narcopanx, il banco come strumento di comunicazione di idee, esperienze e pratica antagonista alla società dello Stato e del Capitale. Siamo una guest star, senza star stasera, non dobbiamo essere qui, sostituiamo gli amici e conterranei epatite, non mi vedo. Ringraziamo chi ha premuto, ha fatto pressioni per farci essere qui stasera. Il primo pezzo è di Stato si muore, la dedichiamo alle persone che sono insorte adesso in Tunisia e che hanno cacciato Ben Ali, che è stato costretto a telare, a lasciare soltanto i militari. E di Stato si muore, la dedichiamo anche a Carlo, a Pinelli e a Alexis, caduti nella guerra sociale. Ricordi il compagno Pinelli, si accava la finestra, in quella questura, ricordi il sacco e di Carlo, che aveva assorzato 15 anni, ma quella carica di polizia, o se ne ha aspettato la vita. E di Stato si muore, la dedichiamo, 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 la dedich è stato sicuro che quando c'è solo mi cadere a suonare e voglio finta che ci sia la pace è stato sicuro che non ho la vita è stato sicuro che solo per mano degli spirit è stato sicuro ogni giorno è stato sicuro ogni giorno è stato sicuro che solo per mano degli spirit voglio farsi pagare anche l'aria che respiriamo e adesso comincia la privatizzando l'acqua io so che voglio caricare che come dico copro uno di tassi che accotellano i tuoi fagli che ne portano di te io non mi chiamo davvero di niente io non mi chiamo davvero di niente per lo stato l'individuore di te è stato sicuro che non ho la vita è stato sicuro che solo per mano degli spirit è stato sicuro ogni giorno è stato sicuro di niente fino a quando si starà sta sicuro che non ho la vita